A passo di danza, come ha sempre fatto, Carla Fracci torna a Bari, sul palco del Teatro Team, per ballare ancora una volta. Nei panni di Talassa, la regina di tutti i mari, in Sherazade le mille e una notte, balletto in un atto, cinque quadri, prodotto dalla compagnia leccese Il Balletto del Sud, diretto da Freddy Franzotti. Instancabile d'eteria, Carla Fracci, mito e leggenda della danza mondiale, ha calcato il palco sulle mezze punte, non facendosi mancare prese e paded che pochi, o forse nessuno, alla sua età potrebbero permettersi. Il pubblico lo sa e lo apprezza, standing ovation per lei a fine spettacolo, quell'abbraccio che tante volte nel capoluogo pugliese Carla Fracci avrà sentito. Io in questa città ho lavorato tantissimo, per cui mi sono grata e sono felice di essere di ritorno con questa compagnia così bella, vivace, energica, giovane. È stato un bel successo. Una compagnia vivace, uno spettacolo ben costruito e pensato dal coreografo Freddy Franzotti, che ha il merito, di certo, di portare la danza del mezzogiorno al di là dei confini locali. Per noi è una grandissima soddisfazione, un continuo emozionarci, emozionare, è una bellissima atmosfera, si arriva sul palcoscenico e arriva al pubblico una bellissima energia, sono davvero orgoglioso.